Musica Benvenuti a tutti i gentili telespettatori edizione quotidiana del telegiornale di TVRS. Cronaca in apertura, dramma oggi poco dopo le 7 a fermo dove un ottantenne è precipitato dal balcone di un palazzo in aviale della carriera. Un volo di circa 10 metri che non gli ha lasciato scampo, un passante ha lanciato l'allarme ma al personale medico non è restato altro che constatare il decesso dell'uomo. L'ipotesi è il momento più probabile che si sia trattato di un gesto volontario. I poliziotti della squadra mobile di Ancona hanno fatto irruzione in un appartamento del centro cittadino occupato da un trentenne albanese che era pedinato da giorni. Appena entrati in casa gli agenti hanno trovato sul tavolo della cucina numerosi ritagli di cellofan per il confezionamento della droga. Una successiva ed accurata perquisizione ha portato al ritrovamento di una scatola contenente tretti e mezzo di cocaina purissima, ancora cristallizzata, che una volta tagliata sarebbe diventata oltre un chilo per un valore superiore a 10.000 euro, droga che sarebbe stata destinata al mercato anconetano post periodo estivo. L'uomo arrestato in flagranza di reato è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona, a disposizione dell'autorità giudiziaria. E veniamo ora ai dati sulla pandemia con una curva epidemiologica stabile. Nonostante ora sia il Piceno la zona che sembra più colpita. Sentiamo. E ancora una volta il Piceno a far registrare la metà esatta dei casi di nuove positività al coronavirus nelle Marche. Edira che la provincia di Ascoli aveva superato quasi immune la prima ondata ed ora invece si ritrova con diversi focolai che non possono non destare qualche preoccupazione. Offida conta una trentina di contagiati, Folignano almeno 20 ed è attenzionato anche l'asilo nido 03 del capoluogo con quattro operatrici positive al tampone. Complessivamente in regione sono quindi 26 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 1.540 tamponi analizzati, 859 nel percorso nuove diagnosi e 681 nel percorso guariti. Gli altri che hanno contratto il covid provengono 7 dalla provincia di Ancona e 6 dal maceratese. Questi casi comprendono un rientro dall'estero, Egitto, 12 soggetti sintomatici, 4 contatti in ambito domestico, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 contatti rilevati in ambiente di vita e 3 casi in fase di verifica. Non si è presentato davanti al GIP di Ancona per l'interrogatorio di garanzia il trentenne insegnante di scuola elementare accusato di pedofilia, in particolare di abusi in un istituto di Ancona su una bimba di 6 anni. Il 23 settembre scorso era scattato per lui il divieto di dimora, nel senso di avvicinamento ed accesso a scuole di ogni ordine e grado. In tribunale è arrivato solo il suo legale. Non c'era la volontà di contestare la misura del giudice, ha spiegato l'avvocato Stefano Migliorelli. Il mio assistito aveva comunicato al Ministero della Pubblica Istruzione che non sarebbe più andato a scuola né in quella dove la bambina l'ho accusato né in altre eventuali nomine future. Sull'episodio denunciato dai genitori della bimba nell'ottobre del 2019 l'indagato avrebbe detto di non ricordare gli atti sessuali contestati. Sequestrati una ventina di diari nei quali il trentenne raccontava ogni giorno sensazioni vissute con diversi bambini. I carabinieri di San Benedetto del Tronto sono intervenuti la scorsa notte nei pressi della stazione ferroviaria bloccando un quarantenne campano che stava picchiando la propria compagna, 44 anni di origini pugliesi. I maltrattamenti erano iniziati già sul treno sul quale i due viaggiavano dal nord per tornare del Brindisino, luogo di provenienza di entrambi. Per motivi ancora da chiarire sono scesi a San Benedetto dove le percosse sono continuate nei pressi di un esercizio pubblico. L'arrivo dei militari, oltre a fermare l'uomo, ha permesso di far curare la donna al pronto soccorso da dove è stata successivamente dimessa con sette giorni di prognosi. Il quarantenne, già noto alle forze di polizia, arrestato in fragranza di reato per maltrattamenti in famiglie e lesioni, si trova ora rinchiuso nel carcere a Scolano di Marino del Tronto. Vasto incendio la scorsa notte ad Appignano, semidistrutti due cappannoni di invito alla prudenza emanato dalla sindaco ai suoi concittadini, i particolari nel servizio di Manolita Scocco. Notata di paura da Appignano in contrada Verdefiore, non lontano dal centro abitato sulla strada che conduce verso Montefano. Un vasto incendio infatti è scoppiato poco dopo le due e ha interessato tre cappannoni per un totale di circa 2000 metri quadrati. All'interno delle strutture erano presenti vari automezzi da cantiere. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in massa, con due autopompe, un'autoscala proveniente da Ancona, tre autobotti e 17 persone, tra cui un funzionario tecnico provenienti da Macerata, Tolentino, Civitanova Marche e dal comando di Ancona. I residenti di un palazzo adiacente sono stati evacuati, seppur a scopo esclusivamente precauzionale. Il ruogo è stato domato a fatica e almeno uno dei cappannoni è stato salvato. Con un post su Facebook, il sindaco Mariano Calamita invita gli abitanti della zona ad usare cautela, tenendo chiuse le finestre ed evitando l'esposizione di alimenti e vestiario negli spazi all'aperto. I vigili del fuoco, scrive, hanno controllato adeguatamente la combustione del materiale depositato, idratando la copertura per abbassare la temperatura, ma siamo in attesa della relazione del comando provinciale e dell'ARPAM per procedere con le misure da adottare. Ed altri interventi dei vigili del fuoco si sono avuti questa mattina. Ad Ancona, lungo la provinciale del Conero, è stato recuperato un autocarro con una ruota sprofondata in una voragine al lato della strada. I pompieri hanno utilizzato degli appositi cuscini pneumatici di sollevamento consentendo al camioncino di rimettersi in marcia senza danni ulteriori. A Iesi invece, in via Garibaldi, sono state rimosse delle parti d'intonaco e decoro vetuste da una finestra di un fabbricato al primo piano lungo la strada, rimosse tutte le parti pericolanti e messa in sicurezza tutta la zona. Proseguono invece i crolli parziali al cimitero di Santa Maria di Fabriano. Erano già inagibili due reparti e stavolta nelle immediate vicinanze della zona transennata si sono registrati altri distacchi di intonaco. I familiari dei defunti protestano ed hanno indetto una sorta di riunione per il 18 ottobre con l'obiettivo di organizzare un fronte comune nei confronti dell'amministrazione comunale per chiedere l'immediato inizio di lavori. Si avvicina la ricorrenza dei defunti e ci sembra indecente, hanno scritto in un cartello, non poter portare ai nostri cari neanche un fiore in ricordo. Siamo all'ampia pagina sportiva di oggi, capriamo con la pallavolo. Inizia con un successo la stagione di Superlega della Lube che vince con il massimo scarto a Verona, partita sostanzialmente mai in discussione come vediamo dal nostro servizio. La Lube trova un parzialissimo riscatto alla delusione di Supercoppa, sempre al Palasport di Verona dove si impone abbastanza agevolmente nella prima giornata dei Superlega battendo i padroni di casa con il massimo scarto. Con Guantorena regolarmente in campo nonostante il leggero infortunio subito contro Perugia il protagonista è stato il giocatore più atteso, ossia l'opposto Camilla Ricicli che dopo le difficoltà avute venerdì scorso ha sfoderato una buona prestazione con 13 punti alcuni dei quali nei momenti decisivi della contesa. La gara almeno per larghi tratti è stata equilibrata. Nel primo set Biancorossi sempre in vantaggio ma i padroni di casa trascinati dal sempreverde Kazischi riuscivano a recuperare la parità quota 23. Quel punto sale in cattedra Simon che con due punti consecutivi porta i suoi in vantaggio. Con il primo set portato a casa la Lube inizia a dare il meglio di sé dando la sensazione di avere sempre in pugno la contesa accumulando un vantaggio di 6 lunghezze chiudendo senza troppi patemi con gli avversari a 20. Stesso andamento più o meno nel terzo parziale con un unico lampo dei padroni di casa che guadagnano un illusorio vantaggio sul 6-5. Poi i ragazzi di De Giorgi spingono sull'acceleratore chiudendo definitivamente i giochi dopo 81 minuti da segnalare anche i 5 ace di cui 3 di Simon e i 6 muri per i biancorossi che torneranno in campo domenica in casa contro la Consar Ravenna. Passiamo al calcio e alle notizie di mercato. L'Ascoli ha ufficializzato nella tarda serata di ieri l'arrivo a titolo definitivo dal Paderborn di Abdelhamid Sabiri, centrocampista di 24 anni con doppia nazionalità tedesca e marocchina. Con la sua squadra di provenienza ha disputato lo scorso anno 25 partite mettendo a segno 4 gol ed un assist. In precedenza ha vestito le maglie di Huddersfield Town, Norimberga e Siegen da tre quartiste, il suo miglior rendimento con 10 reti e 4 assist in 26 partite. Il giovane terzino sinistro Emanuele Maurizzi passa invece in prestito secca annuale in Serie C al Matelica. Classe 2001 è stato uno dei protagonisti della strepitosa stagione della Primavera 2 l'anno scorso con la compagine bianconera guidata da Guillermo Abascal. È vigile intanto dell'impegno dell'Ascoli, domani in Coppa Italia contro il Perugia si gioca al Del Duca alle 17 con arbitro Luca Massimi della sezione di Tivoli. Probabile che il mister Bertotto ordini un ampio turnover anche in vista dell'impegno di campionato sabato in casa contro il Lecce. E siamo all'atletica leggera con il meeting all'Italico Conti di Ancona per cadetti e ragazzi che ci racconta Mario Giannini. La stagione dell'atletica si avvia la chiusura, con uno spazio concesso ai più giovani della categoria ragazzi e cadetti con la seconda prova del trofeo Intermac presso lo stadio Conti di Ancona. Una buona presenza di atleti provenienti da tutta la regione e dalle regioni limitrofe come Umbria e Abruzzo. Condizioni medio di pieno autunno, con vento contrario al rettilino di arrivo ma fortunatamente la pioggia temuta non c'è stata. Oltre al settore giovanile, in gara anche altre categorie, in particolare il martello dove si è visto in pedana il campione italiano promesse Giorgio Olivieri che ha superato per due volte il limite ai 70 metri con 70,52 e 70,48. Un po' difficile citare tutti i vincitori, quindi in questo servizio ci limiteremo alle migliori prestazioni partendo al settore dei lanci, dal Vortex dove il civitanovese del Lama, Giorgio Chiesari, si è imposto con la misura di 43,88. Sempre un rappresentante del Lama, Tommaso Prezioso, getta il peso il più lontano di tutti, con la misura di metri 10,20. Nel salto in lungo supera i 4 metri di 21 centimetri. Ioanna Emoare dell'Asa Ascoli e precede Linda Damiani della San Giorgese, anche lei sopra i 4 metri. Nel lungo maschile ottiene la migliore misura con 4,84, Mattia Lesiani della Collescio San Benedetto del Tronto e precede di 8 centimetri di Fermano Tommaso Seghetta. La gara dei metri 60 ad ostacoli femminile va a Sofia Carrarini del team atletica Porto Sant'Elpidio con 10,33, su Beatrice Cipitelli dell'Avis Macerata ed Arianna Binaglia dell'Atletica Capanne Prologo. Tra i ragazzi il più rapido tra gli ostacoli è Alberto Lanciotti della San Giorgese Renato Rocchetti con l'avissino Alberto Tabarretti che gli arriva molto vicino. Nelle gare di velocità, i metri 60 per le ragazze, le più veloci sono le ragazze dell'Umbria, Binaglia e Orlandi che corrono in 8,54 e 8,58. Probabilmente il miglior risultato tra i ragazzi va al fermano Valentino Bilardo, capace di correre la distanza dei metri 60 sotto gli 8 secondi, fermando il cronometro a 7,94 e precedendo il rappresentante di San Marino che ha corso in 8,09. Si corre anche sulla distanza dei metri 1000 e qui a sbettare su tutti è il senigallese Davide Kutroff con il tempo di 2,53 e 31 mentre tra le ragazze dimostra la miglior tenuta Rosa Maroncelli del Cus Urbino che corre in 3,25 e 51. Sulla distanza dei metri 600 per i cadetti prevale Alessandro Romagnoli della SEF Stamura con 1,30 e 32 mentre tra le cadette il miglior tempo è della ragazza di Ghieti, Serena Quintiliani con 1,40 e 0,6. Un ampio servizio sarà trasmesso giovedì su TVRS Canale 11 alle ore 21.40 nella rubrica di Atletica Lettera Starting Block. Bella soddisfazione ai campionati italiani di pattinaggio-corsa per Giulia Presti. La giovane Elpidiense, tesserata con la roller Civitanova ha vinto il titolo Tricolora Riccione dove ha battuto le rivali della categoria allieve nella mezza maratona di 21 chilometri. Al terzo posto un'altra marchigiana Alice Sorcionovo di Monte Cosaro che difende i colori del club di Senigallia. Numerosissimi comunque i piazzamenti di altre giovani atlete marchigiane. E vediamo ora le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Bentrovati da Nico Schiodetto un aggiornamento con le previsioni di Trapi Meteo. Partiamo dalla mappa della nuvolosità che ci mostra un mercoledì con ampi rassenamenti, cieli in gran parte sereni o al più poco nuvolosi sulle nostre regioni. Ci sarà qualche nube alta di passaggio ma improduttiva. Segnalo una maggiore variabilità in giornata sulla Sardegna. Ma comunque, insomma, situazione tranquilla perché l'alta pressione ci protegge dall'arrivo di perturbazioni, perturbazioni atlantiche che giungeranno poi nel finire di settimana con piogge anche copiose al centro-nord. Andiamo al dettaglio. Per quanto riguarda la mappa delle precipitazioni, ogni giornata con assenza di fenomeni, qualche goccia di pioggia solamente sulla Liguria centrale e poi qualcosa anche sul medio tirreno ma è solo un po' di variabilità di passaggio alternate a schiarite. Andiamo a vedere il dettaglio con l'aiuto della sintesi meteo sull'Italia. Dicevo un po' di variabilità sul medio alto versante tirrenico e parte della Sardegna ma sono fenomeni veramente isolati e sporadici e non mancheranno le schiarite. Più sole altrove, per una bella giornata, il quadrotermico con valori pomeridiani tra 20 e 25 gradi. Dettagli precisi come sempre scaricando l'app di Trevi Meteo. Ancora volley prima di chiudere. Sabato si è svolta al Palabigi di Reggio Emilia l'allenamento congiunto tra la compagine locale della Conad di Serie A2 e la MedStorm acenata. Un nuovo step per la squadra di Adriano Dipinto nel percorso di preparazione al campionato. nonostante l'assenza dell'opposto Stefano Ferri il coach ha avuto modo di testare nuovi schemi per la squadra ormai a tre settimane dall'inizio del torneo di A3 che, ricordo, inizierà per la formazione maceratesi il 18 ottobre a Ferrara contro Porto Maggiore. Con questo è tutto per il nostro telegiornale. Grazie per averci scelto. Buon proseguimento di serata. Grazie per averci scelto.